Sono stati premiati in sala giunta dal sindaco Luigi De Magistris i ragazzi dell'oratorio Don Guanella di Scampia che si sono aggiudicati allo stadio olimpico il campionato italiano degli oratori vincendo la Junior Team Cup 2017. La competizione è un torneo di calcio a 7 riservato a giovani under 14 e promossa dal centro sportivo italiano con team e lega serie e vede protagonisti gli oratori delle 16 città che hanno le squadre in serie a team. La mia gioia è grande perché i ragazzi hanno avuto una grande possibilità, l'hanno raggiunta e la loro gioia diventa la mia gioia, la loro felicità diventa la nostra felicità e poi anche per questo invito del sindaco, per questo riconoscimento bello, bello significativo che il sindaco ha voluto dare a questi ragazzi che rappresentano un po' la gioventù bella di Napoli e soprattutto la vittoria di un quartiere, di un quartiere sugli aspetti negativi ma anche sulle immagini negative che si dà di Scampia. Ma certamente il riconoscimento va dato a chi questi ragazzi li accompagna, allenatori, dirigenti che fanno tutto gratuitamente. All'oratorio Don Guanella il sindaco ha consegnato una targa in segno di riconoscimento per il risultato raggiunto e le medaglie della città ai giovani vincitori del torneo. Sono stati proprio bravi questi ragazzi a vincere la Junior Team Cup 2017 come parrocchia dell'oratorio Don Guanella a Scampia. Un grande risultato, battuto in finale il Palermo dopo aver sconfitto tante squadre, un segno di vitalità del territorio. Era giusto che la città di Napoli attraverso il sindaco li premiasse come orgoglio della nostra città attraverso lo sport. È una città che sempre di più anche attraverso lo sport si sta riscattando e dei risultati importanti vengono proprio dai quartieri di periferia.